Sicuramente è una tappa molto importante per noi in questo momento della stagione, giochiamo contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato, contro la quale abbiamo giocato due volte, due partite molto dure dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'energia che richiedono, Roma come voi sapete abbiamo perso, poi in Coppa Italia invece abbiamo vinto, è una squadra molto equilibrata che ha trovato in Datome un leader molto importante che sta facendo un grandissimo campionato, ben allenata dal mio amico Calvani, quindi ci sono molti ingredienti perché sia una sfida di alto livello e estremamente interessante dal punto di vista tecnico, sicuramente l'aspetto difensivo sarà sempre comunque molto importante in questa fase qui anche di campionato e dobbiamo spendere molto lì, proprio dal punto di vista dell'energia anche fisica, stiamo abbastanza in buone condizioni, a parte Ebi che ancora questa caviglia non è ancora perfettamente a posto quando la forza torna un po' indietro e speriamo che in questi due o tre giorni riusciamo a rimetterlo al meglio perché abbiamo molto bisogno di lui e quindi dopo la vittoria importante di domenica scorsa a Reggio Emilia, di queste sei partite ne abbiamo tre in casa e tre fuori, quindi riequilibriamo il dentro fuori e questa è sicuramente una tappa estremamente importante, forse la più importante delle partite che rimangono da qui alla fine e quindi dobbiamo farci trovare molto pronti.